Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono... no, no, non è questo quello che volevo Ehm... ezzala, fammi vedere, 5 soltanto I 20 insetti più velenosi al mondo, li facono le foto Accetto, accetto, va bene Muscatze... poi... poi fatemi vedere Ma nella seconda non io la voglio Muscatze... clossina, morsintas, morsintas Ha il nome cinese Io so cosa è sto bastarda, ti fa... ti fa morire addormentato, cosa? In quale modo, in una morte bellissima Ti fanno il compito, e subito ti riesci a... a dormire all'infinito, mortos La mosca tsetse, come potete vedere, è un insetto bellissimo È un insetto originario del continente africano, misura tra 6 e 16 mm di lunghezza Il suo corpo ha toni grigi e marroni Questa specie è responsabile di malattia del sonno Un'infezione parassita che colpisce l'uomo Che gli animali causano un'infiammazione del cervello Pesce il sistema nervoso della vitamina Che si ritrova con ferme emorragia E poi addirittura di entrare in coma Un po' troppo virgoloso, vedi? La malattia viene trasmessa attraverso Solo il morso della mosca Per evitare il contagio Il contagio si consiglia di difendersi in area in cui vive Abbastanza questa specie di impedirne la riproduzione Poi Calabrone gigante asiatico Eccolo qua, sto diavolo No, sono i mirtilli, no Sono una delle mie frutte preferite Trimone Trimone e Trimone Vov'è sto mandarin? Va bene, questi qui sono i mirtilli, non mandarin E' il calabrone gigante asiatico Insetto che misura dagli 8 cm di lunghezza Quindi è il calabrone più grande del mondo Il suo corpo ha toni arancioni Con antenne marroni e macchie giallastre Un morso di questo insetto è molto intenso E' pericoloso Provoca la distruzione del tessuto E persino la morte Quindi considerato uno degli insetti venenosi mortali Che esistono Può essere trovato in Cina, Taiwan, Nepal, India e Sri Lanka Tutto via diffusa in Giappone Italia Ti amo Soltanto per Quella maledetta Del ragno venovanera Ragno violino Se volete facciamo pure dei video su un canale che si chiama Gufo Famili storicato Gufo Saggio Quelli fanno un sacco di cose Frutti strani Se volete Li vediamo insieme E recensiamo I frutti, gli alimenti, gli alberi e animali e insetti Con voi Dittemi se vi piace Ape africanizzata Pensato africanazza Come dice sempre Come dice Non dice l'animo Potrebbe inventare stanno però Ape africanizzata Ape africanizzata Ape smelife La scudellata Scudellata Ma questa qua sembra Quella in tutto il mondo In Italia In attardi Le ci sono Soltanto I 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 ha conseguenze diverse a seconda dalla persona. In alcuni casi è fatale, mentre in altri il popolo è solamente allergie. Tuttavia, entrambe le situazioni provocano forte dolore a causa della loro intensità. Non mi piace, non mi piace, non mi piace! La specie dell'origine dell'Africa misura 20 mm e si trova nell'area tropicale, poiché è difficile trovarla nelle sopravvivenze delle zone di pioggia. Pulce del rato orientale Xenopsila, cioè Cheopsi, Cheopsis. Guardate, è sto diavolo qua, ha una faccia da scemo. Sono dei tremondi gli insetti, sono più degli animali, questi traccattacci. Voi faremo gli animali più mortali del mondo, gli animali più alti del mondo, ve lo spoilerate già. E' i frutti più strani che potete vedere sulla faccia della Terra. In questo elenco gli insetti più velenosi, includiamo anche la pulce di rato orientale. E' un insetto che misura 3 mm di lunghezza con un corpo che permette all'insetto di saltare grandi distanze e permettersi di muovere. La Q sistemata, che ho fatto un video tipo 3 secondi fa, c'era una O con una righetta malfatta. Questa specie agisce come agente trasmittente per la peste bulbonica. Io l'ho sempre detto bulbonica. La peste bulbonica la facciamo andare in viesti in guanno? Sto insetto trimone! Perché non faceva una recensione delle farfalle più strane al mondo? Sarebbe stato meglio di vedersi i trimoni. Una malattia che causa la morte di oltre 10 milioni di persone, in particolare durante il Medioevo per la metà del ventesimo secolo. Il ventesimo secolo, ma chi se lo ricorda? Per questo motivo è anche noto come pulce della peste. Vinciuca, vincuca. Tremontro. È una specie di... Mi sa che è una famiglia della mosca. No, è una famiglia della formica. Te ti chiami vincuccia. Sei una formiglia. Questo insetto vive nelle zone calde del Sud America, come Perù, Bolivia e Argentina. Perù. Il mio zio più grande... Anzi è che vive in Perù. Oddio. Adesso mi amo. Venezuela e Brasile. Che Venezuela è meglio che scappi in Italia. Non ci sono insetti così piccolosi. Ci sono soltanto due tipi di ragni. Se siete aracnofobici. Due ragni, tre ragni. Ragno della polvere. La vedo vener che... Vabbè, è pericolosa. Ma non la trovi faccio. Ragno fiorino. Se vai... Se sei un trimone, vai. Trovi... Trovi... Sto trimone in case abbandonate. Non ci credo nei garage. Sotto cazzo due ritrofi asticosi. Sparateli. Prima che potete dare fuoco al garage. In età adulta la sua lunghezza raggiunge tre centimetri. Il suo corpo piatto ha tonni marroni. Gli occhi sporgono. Gli occhi sporgono dalla sua testa. Ha sei zampe e due antenne. Questo insetto è una scoperta grandissima. Soltanto due antenne. Tutti gli insetti hanno due antenne. Questo insetto è responsabile della malattia di caccia gas. Pure il gas ci mettiamo. Tanto. Non è che si è trovato un ragno. Fammi vedere se c'è quello. Sono negli arachnidi. Quello lì è un trimone dell'Italia. Che ha origine nel momento in cui punge la sua vittima per succhiare il sangue successivamente. Viene depositato il parassita che causa un fiore dell'intestino. Un insetto del noso matale. Ma non è che... I ninja farfalle. Venite a estinguere questa specie. Pure coccinelle. Mosca spagnola. Non mi sembri una mosca. C'è qualcosa di squadrato in te? Una mosca mi sembri zero. Puoi usare delle pistole per... Te sei bello. 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 Te sei bello. L'unico degli insetti. Belli in questa lista. Fammi vedere la zanzara trimona. La mosca spagnola è un insetto che misura dai 22 mm, bello grande come insetto, la lunghezza di 8 mm di larghezza. E' di verde brillante e vive tra i rami degli alberi in Europa e in Africa. Ti vorrei vedere. Fammi vedere cosa fai ma... Questo insetto si ottiene da una sostanza chiamata cantaridina, che vive e utilizza come viagra naturale, poiché... poiché dilatta i vasi sanguigni e provoca con tutta sovradosa. Giù risulta assolutamente pericolosa. Giù risulta assolutamente pericoloso, in quanto provoca una morte lenta e terribile. La causa di complicanze... La complicanza... L'italia... Ne abbiamo trovato una in Italia. Ce ne saranno due. A un corpo rossastro con segni più scuri sul dorso, inoltre il maschio è leggermente più piccolo delle femmine, le loro sfumature più uniformi. Quando sono nella fase di larva, questa zecca si nutre di sangue di uccelli e topi. Tuttavia, d'età adulta, cercano vittime grandi come cervi, cani o umani. Il mio zio pipì... Ezzala... Il mio zio pipì con un sale ha passato per me. C'era una zecca che si voleva infilare nel suo corpo. Il mio zio più grande dell'altro ha preso un accendino. Ha bruciato la zecca e gliel'ha tolta. Non so che male, ma adesso spero che sia chiuso il buco che si crema. Ok. E' responsabile di patologie come la malattia di Lyme. Meno male non lion. Babesioni, l'erlicosio o l'anaplasmosi. Che sono esseri fatali per le loro vittime. Per questo motivo sarebbe non si... Sebbene non si tratta di un insetto venoso, è un animale pericoloso che può portare la morte a chi viene pronto. Zanzara della febbre gialla. Zanzara della febbre gialla. Ma la... No, la chiamiamo... Zanzara tigre sta qua. Perché? E' una tigre! Un altro degli insetti più velenosi, la famosa zanzara della febbre gialla. Queste specie diffuse in tutto il mondo ed è considerata mortale in diversi decenni. In situazioni normali come una zanzara punge da una vittima e nell'aria infetta che provoca un leggero dolore. Può anche trasmettere malattie molto pericolose, la malaria o dei... con... Mi immagino cosa faccio. Ma non so cos'è. Per un primo video dei mostri più pericolosi. Dove che me lo immagino sempre... Ho gli SCP più pericolosi. Che non lo sapesse... Ecco... Il nostro amato Regno d'Italia. Vabbè... Il Regno Eremita Marrone Mediterraneo Noto anche come Ragno Violino L'Odiato Ragno dell'Italia E' un arachnide caratterizzato in macchia a forma di violino Per... Superio... Per... Dove era arrabbiato? Nell'addome superiore. E' come trovato in luoghi caldi Anche se è frequente incontrarlo anche... Tendo il caso cinamobile dietro agli angoli. Questo ragno non ha... Un comportamento aggressivo. Solo... Se è provocato tuttavia il suo morso in grado di casa... Necrosi... Nelle parti interessate. Ecco... Fammi vedere se è proprio quella... Una specie di insetto che può raggiungere... Si chiama Bachinus crepitans... Non cretinans... Parchinus crepitans... Parchinus cretinans... Il... Parchinus crepitans... Una specie di insetto che può raggiungere 9 mm di lunghezza... Si nutre di piccoli vertebrati... Lombrichi... Inoltre è un animale... Socievole che vive in gruppo... Questo scarabello è un particolare meccanismo di difesa... Dopo di generare piccola esplosione... Combatte con... Con... Combatte con delle sostanze... Che c'è dall'interno del suo corpo... Questa esplosione arriva fino a 100 gradi di celsius... Una segliera... Perché oggi mi è arrivato per Natale... Un libro delle scienze che... L'acqua bollente arriva a 100 gradi... Andiamo proprio bene... Brucia... Chiamati pompieri... Sì... E risulta essere mortale per i suoi nemici... Addio... Ecco... Il mio segno zodiacal... Preverito... Il più pericoloso degli insetti del mondo... Sono proprio... Un... De... De... Avete capito... Lo scorpione giallo è considerato molti come... La specie di scorpione più pericolosa del mondo... Non è la più pericolosa... Non è soltanto la specie di scorpione... È proprio l'animale... L'insetto... L'arachnide... Più pericoloso del mondo... È originale dell'Africa nel Medio Oriente... Ha una lunghezza di 11 cm... Colorazione gialla... Il veleno di questo animale è estremamente doloroso... Può causare reazioni allergiche e morte... Specialmente per bambini e per gli anziani... Perfetto... A posto... Ho... Otto anni... Perfetto... Bambino... Asper... Guardate... Un ragno... Ragno dei cunicoli... Atrax... Robustus... Minecraft, oddio! Il ragno dei cunicoli è una specie che raggiunge i 7 cm di lunghezza nelle femmine e circa 5 cm nei maschi. Il suo corpo è caratterizzato dall'estero completamente nero, anche se ci sono esempi in toni di grigio e persino marroni, inoltre in zampe lunghe e l'addome piatto. I primi effetti del veleno di solito causano improvvisi contrazioni muscolari, perfetto, involontarie del viso, nausea, vomito, formicolio, menta della salivazione, difficoltà a respirare, adattami, topolmonare e poi coma. Bene, tutto quello che puoi pensare, l'ordine del viso, nausea, vomito, formicolio, menta della salivazione, difficoltà a respirare e sudorazione. E' proprio un diavolo! In sua situazione estrema provoca edema polmonare, 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 ok? E poi coma, perfetto! Manca soltanto che ti cagli un razzo in testa e vai all'altro mondo! può verificarsi dopo tre giorni d'almorso, quindi troviamo di fronte a uno degli insetti velenosi mortali più pericolosi al mondo, scopre i zagni velenosi in tutto l'entipo. ma loro non erano arachnidi e non insetti? Vabbè, polister di dominulare. Ma che cos'è? Sto tremando! Questa particolare specie di vespa è lunga due centimetri. E addio scapponcina! La sua colorazione è nera e segni gialli. Ha un addome piatto e vive in strette, si è noto come supertente di frutti ed è originale dell'Europa e africa. Siamo fritti, maledetti noi! Per questo, quando riguarda la tossicità, il suo veleno può risultare mortale per le persone allergiche. Inoltre, la sua puntura può provocare demme polmonari. L'omonio obliqua è la specie di brucolo originale dell'America Latina, specialmente nell'Amazzonia, tra Colombia e Venezuela, e il suo corpo coperto di pelli che trasmettono il veleno. Proprio per questo motivo, quando si tocca il brucolo, può arrivare a sentire dolore e sintomi peggiori nel tempo. producono, se intensi, dolori nella parte posteriore della testa, seguito da lividi e emorrogia. Alla fine, l'effetto mortale. Ti presentiamo altri animali dell'Amazzonia in questo articolo. Fammi vedere. Ma ho guanni. Sono undici. La formica proiettile è considerata da molti l'insetto più velenoso del mondo, poiché è un insetto più velenoso del mondo, un morso può far svenire una persona in meno di dieci minuti. Il dolore è simile all'impatto di un proiettile da qui il suo nome o quello di un martello. Il veleno di questa formica può causare brividi sotto l'azione tachicardia, preperdita di sensibili e difficoltà dei respiratori, nonostante l'immenso dolore che la vittima vive, di solito non è fatale, a meno che non provochi una reazione allergica. Ok, abbiamo finito.